Bentornati e bentrovati, questa volta parliamo di Seagwind, del suo kit, delle sue cose, è la seconda volta che registro questo video in realtà, ma ci sono stati un po' di problemi qua e là e non ho potuto fare un discorso filo... Insomma, allora, che personaggio è Seagwind? Andiamo nel test ramp per spiegarvelo. Molto semplice, Seagwind è un healer, slash, sub DPS, perché ha un sacco di abilità, un sacco di passive che gli permettono di aumentare il kit rate dei propri danni, soprattutto. Per spiegarvi bene le cose, allora, innanzitutto, l'attacchi base, come vedete, sono questi tre strani attacchi base, in effetti, molto particolari. L'attacchi caricato, invece, è questo continuo lancio di queste bolle, a forma di cose, che sono estremamente lente e il danno che fanno sono più o meno irrisorio perché non scalano, se non sbaglio. Mentre, ovviamente, se si preme pulsante, si lancia la classica freccia. Allora, la sua elementa skill è questa bolla, che, andiamo ovviamente nel talento così vi lo dico subito, la sua elementa skill è questa bolla che lei lancia, praticamente. La bolla rimbalza di nemico nemico, ma in realtà rimbalza a prescindere, facendo danni da Hydro, basati sugli HP massimi di Seagwind. Una marea di tutte le sue abilità scalano sui sui HP massimi, quindi è un personaggio da HP, raga. Non è un problema quasi tutti capire dove andare a parare con i suoi danni. Quasi tutti gli healer di Hydro scalano in HP. In realtà quasi tutti i personaggi di Hydro scalano in HP, tra un po' però vabbè. Ora, ogni rimbalzo che fa questa bolla cura i membri del party, a parte Seagwind. Seagwind verrà curata, ovviamente la cura si basa sugli HP massimi, e quando rimbalzerà 5 volte, questa bolla esploderà, praticamente, scomparendo e facendo recuperare HP, sempre basati sui siti di HP massimi, a Seagwind. Quindi diciamo che curerà prima gli altri e poi se stessa la prima. Quando non ci sono personaggi presenti, la bolla rimbalzerà vicino, praticamente. Si può creare solo una bolla e quando caricata la bolla va in modalità praticamente caricata, insomma. Come funziona la modalità caricata? Specialmente la bolla diventerà due volte più grande, e rimbalzerà, e potrà fare determinate cose in più. Primo, per ogni tier di grandezza che fa, vedete perché sto facendo un discorso conciso, io mi sto sottostendo. Come ho già detto potrà diventare due volte più grande. Per ogni volta che lei diventa più grande, aumenta i danni del 5%, le cure del 5%, quindi per un totale 10% di più. Quando questa bolla rimbalzerà, praticamente, si ridurrà di una tier di grandezza, finché non ritorna ad essere una normale cosa. Se c'è un nemico minore, per nemico minore intendo tipo gli lucir normali, i lucir, scusatemi, i normali, penso i banditi più piccoli, eccetera. Quelli che non sono, che sono spostabili, ecco. Considerate questo esempio, che ne so, lancio un vortice e quelli saltano, a prescindere. Ecco, quei tipi di nemici lì verranno bloccati dalla bolla gigantesca, quindi dalla modalità caricata. E saranno imprigionati per impossibili da muovere, che non si potranno muovere. Più, quando utilizza questa skill, lei lascia due Source Waters Droplets. Chi non si ricorda queste cose sono quelle gocce che Nuvilet lascia per terra. Solo che funziona in maniera diversa, perché prima di tutto li può raccogliere solo Seguin, queste qua, ovviamente. E cosa fa? Quando li raccoglie, gli danno una percentuale, una percentuale basata sul 10% sui HP, di Bond of Life, che sappiamo ormai tutti cos'è il Bond of Life, quella barra in più, sulla salute, che conta, come cura, che ex ti devi fare, eccetera, eccetera. Quando questo Bond of Life viene curato, lei riguadagna un punto di energia elementale per ogni 2000 HP di Bond of Life che è stato curato. Può recuperare fino a 5 Elemental Energy in questa maniera. È una cosa assurda, più o meno perché tecnicamente se guardiamo Elemental Burst costa 70, che non sembra una cosa male. Più, questa Elemental Scale ovviamente crea una reazione di Osia e farà danni di Osia o E, basare sempre sui sui HP massimi. Penso che sia la prima... non mi ricordo se ci sono altri personaggi che hanno questa cosa, però è la prima volta che vedo una reazione Osia oppure Pneuma che scali su una statistica del personaggio, quindi è interessante. La sua Elemental Burst, invece, è la cosa più semplice da capire. È un enorme AOE davanti a lei, che fa danni continui di Hydro, basati sempre sui HP massimi, e quando la utilizza assorbe in automatico le fine a due di quei Droplet che abbiamo appena parlato. Cosa fa questa cosa che prende gli Droplet? In realtà non lo so, perché sinceramente ho letto, continuavo a leggere tutte le statistiche, tutte le abilità e non ho trovato niente che dica se assorbi con la tua Elemental Burst, durante l'Elemental Burst, questa cosa, cosa ti fa guadagnare. Quindi, boh. Parliamo della sua, il primo talento. Allora, praticamente, quando utilizza la sua Elemental Skill, lei guadagna un effetto per 18 secondi, chiamato Seminy Street Bad Dress, però non chiamerò l'effetto, va bene? Senza dire i nomi. E gli fa guadagnare l'8% di danno Hydro Bonus e 10 cariche di convalescenza. Quando un membro del party, che non è in campo rispetto a Seagwind, che non è Seagwind ovviamente, fa danni, consuma una carica di convalescenza, facendo sì che il danno fatto da questa Elemental Skill, quindi per esempio Fischel, Deja, Raiden e cose così, viene aumentato il danno di quella Skill per ogni carica, praticamente. Per un massimo, praticamente, come spiegarvelo? Ogni 1000 HP massimi che Seagwind ha, sopra i 30.000, aumenta i danni di 80. Il massimo di danni che si può guadagnare è 2800 su questo Elemental Skill. Usando sempre, praticamente, una carica di convalescenza, scala sugli HP massimi di danno bonus, scala sugli HP massimi sempre di Seagwind. Ovviamente conosciamo tutti che 30.000 di HP sono una cazzata a raggiungere e andare oltre il normale. Per esempio, con, per esempio, il mio Jolie ha 53.000. Una cosa del genere, tipo. Quindi, cioè, tranquillamente, facilmente, molto facile. Quindi, diciamo che la sua... Il punto è che ho notato questa cosa, infatti, perché lei ha tanti danni per essere un healer. Ha più danni che su... che... Cioè, ah, cure ce l'ha, però ha anche parecchi danni. La sua seconda talento fa sì che quando lei cura, praticamente, una percentuale... Quanto Q viene curato, praticamente, si basa sul Bond of Life di tutti i membri del party. Per ogni miglia di HP di Bond of Life, praticamente, le cure vengono aumentate del 3%. La montata di queste cure viene... Può essere aumentato fino al 30%. Questo effetto non lo capisco. In che senso? Primo, presumo che questa sia una situazione in cui Seguin fa solo healer per personaggi che hanno Bond of Life. Il problema è che la maggior parte... Se ci sono al momento solo due personaggi che possono autocrearsi il Bond of Life tramite il loro kit e non senza, per esempio, un'arma, per esempio, tipo la spada di cosa? Di Sifontain. Quindi vai a compensare dei allora forse devo utilizzare con Clorinde o con Arlecchino. Solo che Arlecchino, ovviamente, non ha senso perché Arlecchino non si cura da sola durante la battaglia. Non si può curare durante la battaglia se non con la sua elemental burst. E Clorinde ha senso però se io mi curo il mio Bond of Life perdo dei danni. Quindi non ho ben capito dove va a posizionarsi questa cosa del Bond of Life. Posso capire se va a scalare sul Bond of Life della sua elemental della sua, diciamo della sua elemental skill praticamente. Quella che guadagna il Bond of Life. No, dove stiamo? La so persa. Oh, shit. Sì, è questa, sì. Quindi, insomma, è un po' da capire dove va questa cosa. Praticamente. Ah sì, con il Bond of Life usa con il Droplet. Quindi presumo che più HP ha, praticamente, più il Bond of Life sarà posente, più le cure saranno aumentate. Però solo sul Bond of Life di Seguin, non sull'intero team sarebbe. Però vabbè. Però parliamo dell'ultimo talento, quello di esplorazione, che non... Anche qui sono un po' dubbioso su questa cosa. Perché praticamente finché in acqua, finché siamo sotto acqua, praticamente lei curerà il personaggio attivo, quindi quello che abbiamo, in 2.5 secondi quando i loro HP sono sotto al 50%. L'ammontare che viene curato riguarda il 50% di l'HP massimi e però le loro resistenze elementali e le loro resistenze fisiche viene ridotto del 10%, per 10 secondi. Questo effetto si può attivare una volta ogni 20 secondi. Ora, sì, ci sono delle boss battle sott'acqua, tipo dei nemici di nota, delle leggende, però non so se, a meno che non deve spuntare un boss che si può fare solo sott'acqua, non capisco questo effetto almeno per non più, cioè ci sono i pesci per curarsi nella maggior parte dei boss battle, quindi non so perché fare questa cosa, però vabbè. Prima di passare alle costellazioni potete vedere il set che gli hanno dato nel menu, diciamo, nella questione nel menu, diciamo, nel nel trial ci abbiamo Militeg Vrukasha, ha senso, sono HP entrambi, fanno HP a manetta. Passiamo alle costellazioni. Allora, la prima costellazione fa sì che l'elemental skill possa rimbalzare tre volte in più e le prime tre rimbalzi che fa questa bolla fa sì che la bolla non, la quella gigante, ovviamente quella con la modalità caricata, non diventi più grande. Più, il primo talento, quello di convalescenza, praticamente, che ti dà il stack di convalescenza, fa sì che ogni carica di convalescenza scali di più, praticamente, invece di 80 scalerà di 100 per un massimo dei danni che si possono guadagnare di 3500. Molto comoda, permette di far sì che il tuo elementar skill faccia molto più cose, molte più cure, molti più danni, più ti aumenta tantissimo l'elementar skill damage degli alleati accanto. Specialmente, se c'è i personaggi come Furina, cose così, un'abilità del genere aumenta ancora di più i danni. La sua seconda costellazione, ripeto, con la sua elementar skill anche nel video precedente, quando utilizza la sua elementar burst e la sua elementar skill, lei crea uno scudo basato sul 30% di HP massimi. Questo scudo, ovviamente, è uno scudo di Hydro che quindi assorbe di più meglio lo scudo di Hydro. Questo scudo, però dura finché questi skill che U utilizza, quindi la sua elemental burst e l'elementar skill finiscono. Più, quando le skill, ovvero l'elementar skill e l'elementar burst copiscono l'avversario, riduce la resistenza dall'Hydro dell'avversario. Ora, due perplessità. Primo, se uno scudo di Hydro vuol dire che posso subire tipo le reazioni di Hydro come per esempio il Frozen. Quindi se un avversario mi lancia addosso del ghiaccio mentre ho questo scudo è capace che posso essere congelato in teoria. Funziona così, se funziona con gli avversari funziona anche con me tecnicamente. Secondo, l'elementar skill dura abbastanza se c'è specialmente la prima costellazione però l'elementar burst senza la quarta costellazione posso assicurarvi che dura pochissimo quindi questo scudo può essere utile solo per avere meno interruzioni diciamo, temporaneamente quindi potrebbe funzionare però. Terza costellazione ovviamente aumenta il livello massimo dell'elementar skill quarta costellazione come ho già detto estende la durata dell'elementar burst di 3 secondi quarta costellazione aumenta il livello massimo dell'elementar burst quinta costellazione sesta costellazione questo è quello che dicevo sul aumento dei suoi danni in che senso? Quando Stain Wind cura aumenta il suo crit rate e i suoi danni critico per la sua elemental skill eh, su elemental scusatemi basate sui massimi di HP per ogni 1000 HP di HP massimi lei aumenta il suo crit rate di 0.4% e il suo danno critico quindi crit damage di 2.5 e 2.2% per 15 secondi per un massimo che si può ottenere di 20% di crit rate e di 110% di crit damage buono però sulla sua elemental burst cosa che non è un effetto secondario cioè non è un effetto che si può avvenire a di fuori del combattimento a di fuori del legge in campo quindi vuol dire vuol dire che è un healer offensivo diciamo deve stare in campo a menare passiamo anche velocemente alla sua arma allora la sua arma funziona così il personaggio che ce l'ha praticamente può guadagnare l'effetto remedio quando possiedono numero di rimedio di cariche massime che sono 3 potrà guadagnare gli HP massimi basati su queste cariche fino al 12% 24% e un 40% massimo di HP in più HP massimi ovviamente in più per ogni quando si ha 3 cariche e si possono guadagnare una carica in questa maniera quando utilizzi un elemental skill una carica un elemental skill una carica quando il tuo bond of life aumenta e una carica quando curi queste cariche sono indipendenti si possono attivare anche il personaggio non è in campo e che vuol dire che sono indipendenti vuol dire che vengono contati a minure diverse perché se vedete c'è scritto si ottiene una carica per 25 secondi quando si utilizza l'elementa skill un'altra 25 secondi sempre quando si utilizza bond of life e una per 20 secondi quando si cura in più quando tutte e tre le cariche sono attive il crit rate quindi il tasso di critico dell'elemento del boss viene aumentato al 28% questo effetto sarà cancellato 4 secondi dopo che va sotto 3 cariche quindi diciamo che questo effetto primo sì può essere utilizzato soprattutto e solo e soprattutto penso per seguint perché gli basta utilizzare l'elementa skill per attivare tutto gli effetti e di nuovo pare che lei sia un dps più che un damage dealer fisico adesso vi faccio vedere la sua elemental burst caricata e la sua elemental skill come vedete l'avversario è bloccato e c'è sempre una bolla che rimbalza e va a cercare gli altri avversari quelli sono i droplet quindi prendo il bond of flight e questo è l'elemental burst che come potete vedere cura pochissimo pochino quindi sono piuttosto scuro che si preferisce non lo so io lo abito se lo vista tanto come come potete vedere come un sub dps ma più che altro un 1000 che può fare dps come potete vedere c'è facilmente certo le sue attacchi normali fanno poco perché non ha uno scaling sugli attacchi normali ha uno scaling su purtroppo sull'elemental skill e sull'elemental burst e in poche parole se il suo elemental se i suoi attacchi normali scalerebbero anche sul sull'elemental skill cioè non esco gli hp scusatemi allora si potrebbe fare ora vi faccio vedere chi ah no come l'ho detto però comunque le può raccogliere solo lei questi droplet è complicata non lo so sinceramente dove se farla full healing quanto ti possa portare farla full cure fare full supporto farla dps o meglio nel senso un healer che è dps perché c'ha un sacco di scaling in più specialmente se c'è l'ultima costellazione quanto sia worth e cose così l'arma l'arma seriamente l'arma è un'arma penso praticamente per l'inesima arma che è unicamente per lei perché non saprei neanche dire chi utilizzerà un'arma del genere perché se considerate che ha bisogno di a meno guadagnare un bond of life e non ci sono al momento arcieri che guadagnano un bond of life dentro che esce al momento pensaresti a linee ma linee non guadagna un bond of life se invece ci fosse un personaggio che ti guadagnere sto digerendo se ci sarebbe un personaggio che ti darebbe in automatico un bond of life agli altri personaggi allora avrebbe senso ma siccome non esistono armi quasi così che guadagnano un bond of life c'è questa cosa del purtroppo che è un po' troppo niche cioè un po' troppo sul si quindi soltanto può fare quella cosa mentre per esempio Florind può usare benissimo anche questa altra arma qui lavorava di fonte in base invece della sua che non ho ottenuto però vabbè sono perplesso però al momento non si sa niente cioè al momento è appena uscita quindi ci sarà sicuramente qualcuno che ci capirà di più rispetto a me il mio compito è semplicemente spiegarvi al volo e in maniera dettagliata come funziona quando riguarda sette artefatti lì abbiamo visto due parti due parti di purkash due parti di media elite perché si basa sui HP massimi però penso che magari se stiamo andando full healer un song of the day past potrebbe essere utile o cose simili non so di preciso però niente ci vediamo al prossimo ragazzi fatemi sapere la posta su Seguind il video della storia arriverà domani perché adesso lo devo giocare praticamente ancora ma non la giocherò e oggi me la giocherò forse stasera niente ci vediamo al prossimo ragazzi